Il problema della sicurezza urbana all'Aquila ormai è tema di tutti i giorni. Dopo l'aggressione alla gente della polizia municipale al terminal di Colle Maggio, dove c'è un posto fisso da un po', messo proprio come deterrente ad alcuni comportamenti e situazioni, le reazioni sono davvero tantissime. L'agente è stato preso a morsi da un giovane straniero che era stato rimproverato perché trovato a fumare nel tunnel dove non si può fumare, al quale era stato chiesto semplicemente di uscire e le generalità. Oltre a scappare, prima ha tentato la fuga, una volta raggiunto però ha aggredito l'agente che ne avrà per diversi giorni. Solidarietà è arrivata dall'assessore Laura Cucchiarella, è segno che il presidio funziona, dice, ma è ovvio che questo non può bastare. Occorrerebbe una riflessione molto più ampia, anche perché sicurezza urbana e ordine pubblico sono due cose ben diverse. E sulla sicurezza si registra anche l'intervento del sindacato di polizia a Siulpa con Alisa Tracanna, che insiste, la sicurezza non deve essere considerata un costo ma un investimento. È ovvio che tante cose in città si stanno facendo, ma effettivamente non basta. Il territorio è molto cambiato, è cambiata anche la sua composizione e dunque vanno fatti interventi mirati, ma soprattutto la verità è che servono uomini. Noi chiediamo da anni una maggiore attenzione e un rafforzamento dell'organico della Polizia di Stato. Negli anni 2022-2026 la provincia dell'Aquila perde ben 250 colleghi che sono andati e andranno in pensione. Basta pensare che già da qualche anno una città come l'Aquila non ha una pattuglia della polizia stradale che vigila sulla città. La sicurezza reale e percepita sono due fattori che vanno tenuti ben in considerazione. Per fare questo bene le telecamere, bene i provvedimenti presi dal questore a livello amministrativo e sui rinforzi delle pattuglie, ma perché appunto si parli di rinforzi abbiamo bisogno di numeri. Almeno un ripianamento dei numeri e questo per noi è molto importante.